Rispondo alla domanda, in realtà, la domanda è in realtà, non in verità, in realtà, la vanità è la viva manifestazione dell'amor proprio? Beh, io posso risponderti che in verità non lo è, in realtà lo è, perché nel nostro mondo reale l'amor proprio si esprime come l'attaccamento morboso a quel punto di vista personale e singolare che esalta l'essere singolo. E quando l'essere singolo ha questo amore verso se stesso e ha anche la capacità di vedervi qualcosa di buono dentro e lo osserva, è preda proprio della vanità, ossia di quelle cose vane perché la forma che noi abbiamo in questa realtà non è la forma nostra dell'anima, è la forma assunta proprio dalla forma reale della realtà che comprende tutti i valori, tutte le cose, nelle condizioni degli altri, tanto che se esistono bellezza, leggiadria e altri aspetti così nella costituzione umana e la visione singola vede una parte di questi valori in sé e si congratula con sé, vaneggia perché questi valori del personaggio e dei personaggi sono valori dei personaggi e non dell'anima. Si dà valore a una cosa vana come alla qualità del personaggio, mentre invece la qualità del soggetto che anima il personaggio, quella sì è la condizione essenziale di ogni uomo. Noi siamo il contenuto ideale dei nostri pensieri, noi siamo quel bene che ci anima oppure quel male che ci anima, tanto da essere nelle buone o nelle cattive intenzioni. Noi siamo l'attore che mette in atto ciò che è indicato nel personaggio. L'attore e non il personaggio, ma la vanità che si congratula e si avvale delle qualità del personaggio per congratularsi con sé stessa per avere cose o modalità che tra i personaggi sono valori ritenuti positivi, ecco, tutta questa considerazione di importanza data alle condizioni del mondo sono atteggiamenti di pura vanità che non significa niente perché sono date queste attenzioni alle cose vane che appartengono ai personaggi e non alle cose veramente importanti che appartengono alle anime dei personaggi.